Nel secondo secolo c'era distanza dalla flotta romana con 80.000 soldati, qui nel lago Parbia c'era una situazione di grandissima strategia militare e poi in questo litorale c'è stato un degrado perché noi uomini non sappiamo mai come sfruggere le cose belle che c'è da dentro, non sappiamo come regalare ai nostri figli un mondo usurato e diminuito di valutti. E' una risposta che ci vede buona. Perché bisognerebbe interpretare il sentimento di tutti coloro che amano e di tutti coloro che non amano il cinema perché il problema del cinema è, signori miei, che dopo una certa età voi vi dimenticate di che cos'è il cinema, non lo amate più, non lo frequentate più. Quindi ogni tanto ci si diverte, però il mio committente primo è il pubblico, così come per il calcio il mio committente sono i tifosi. grazie Aurelio, grazie a noi, è il mio committente, per chiedere di Rossella Senzi, però lascio a te. Non sei più tua, noi qua abbiamo un amico in comune che è il mio vicino di casa che lui conosce. ho trovato, questo anche altre volte devo dire, un grande affetto, un grande interesse, una grande curiosità nei confronti del cinema italiano. Vogliono sempre sapere cosa sta succedendo, che cosa verrà fuori. insomma c'è sempre una nota di grande simpatia, di grande affetto.